Bentornati su questo canale, oggi dedicheremo qualche minuto a parlare di applicazioni predefinite cioè quelle applicazioni che il nostro sistema operativo, in questo caso si tratta di Android imposta come applicazione standard. Faremo degli esempi usando un cellulare Samsung ma voi da casa potrete applicare quello che stiamo per vedere anche sugli altri smartphone versione Android Bene, iniziamo il nostro esempio aprendo il browser di Chrome e facciamo finta di vorrei vedere un video su YouTube quindi clicchiamo YouTube, adesso ci propone la pagina di YouTube noi clicchiamo sulla pagina di YouTube e si apre la finestra con la domanda vuoi aprire l'applicazione di YouTube o vuoi guardare su Chrome? nel momento in cui noi clicchiamo su Chrome, solo una volta abbiamo accesso alla pagina di YouTube in versione mobile torniamo indietro nel momento in cui clicchiamo sull'applicazione, solo una volta si aprirà l'applicazione, fin qua tutto a posto ma che dire se per sbaglio noi cliccando per esempio applicazione invece di cliccare solo una volta, clicchiamo sempre ebbene, adesso iniziano i problemi perché questo? Sì, ogni volta che noi apriremo il browser e andremo su YouTube a guardare un video automaticamente si aprirà l'applicazione vogliamo dimostrarlo? Ebbene, facciamo la prova facciamo l'esperimento apriamo Google YouTube è già impostato apriamo quindi YouTube avete visto? automaticamente si apre l'applicazione quindi io non ho più l'opportunità di usare il mio browser per guardare un video di YouTube quindi non ho più accesso non solo alla versione mobile non ho più accesso nemmeno alla versione desktop questo è sicuramente di svantaggio perché se noi vogliamo andare ad impostare le preferenze del nostro canale sia nell'applicazione che nella versione mobile mancano tantissime opzioni andiamo a fare l'esempio torniamo indietro e vediamo un pochino come sbloccare questo problema adesso avremo impostazioni oppure possiamo cliccare qui nella barra e possiamo accedere alle applicazioni predefinite queste sono le applicazioni che il nostro cellulare imposta automaticamente poi andiamo su imposta come predefinita cerchiamo YouTube andiamo sopra a questo punto clicchiamo elimina predefiniti e impostiamo che di sempre nel caso vogliamo che il cellulare ci chieda sempre chiudiamo le impostazioni apriamo di nuovo il browser apriamo YouTube questa volta cliccheremo su Chrome quindi sul browser e imposteremo sempre adesso non abbiamo più il problema che quando clicchiamo su YouTube ci chiede che cosa vuoi aprire vuoi aprire l'applicazione o vuoi aprire il browser a noi l'applicazione in questo caso non ci interessa perché come abbiamo detto prima sia nella versione mobile che nella versione che nell'applicazione mancano tantissime impostazioni infatti infatti se io vado su impostazioni e apro la versione desktop possiamo vedere che si apre tutto un altro mondo sarebbe la versione come quella di un computer portatile o di un desktop di un computer desktop un pc fisso perché abbiamo fatto questa divisione ebbene se noi vogliamo usare l'applicazione di YouTube non abbiamo alcun problema entriamo nell'applicazione scriviamo il video che vogliamo guardare cerchiamo e possiamo guardare qualsiasi video ci pare piace nel momento in cui decidiamo invece di usare il browser per per esempio andare a impostare qualcosa nei nostri video nel nostro canale YouTube ebbene in quel caso là abbiamo bisogno della versione desktop quindi per noi è importantissimo accedere al browser nella versione desktop quindi facendo così abbiamo diviso le cose abbiamo l'opportunità di usare l'applicazione di YouTube per conto suo oppure di usare il browser di Chrome per accedere al nostro canale YouTube perfetto ragazzi abbiamo visto come impostare un'applicazione predefinita come rimuoverla e per questo esempio ci siamo concentrati sull'applicazione di YouTube ad ogni modo quello che abbiamo imparato può essere applicato anche su altre applicazioni come Facebook eBay e Amazon Shopping e tutto ciò che il nostro cellulare imposta come applicazione predefinita e tutto ciò che il nostro cellulare è un'applicazione che il nostro cellulare